Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 2 novembre 2016. Oggi è la giornata in cui tutti quanti ricordiamo i nostri cari defunti, la commemorazione dei defunti. Dopo il primo novembre, il giorno in cui invece abbiamo festeggiato i Santi. E questo dunque è il salto del giorno, chiamiamolo così, insomma commemoriamo i nostri cari. Il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà 3 minuti dopo le 5 del pomeriggio. Vediamo subito le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Avremo cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti sul versante occidentale degli Appennini. Non si escludono isolati e brevi piovaschi sugli Appennini. Le temperature sono in aumento, i venti di brezza tesa o moderati sud-occidentali nelle zone interne con raffiche fino a vento forte e sud-orientali invece lungo la costa. Il mare sarà poco mosso oppure mosso. Per domani, giovedì 3 novembre 2016. Vedete il tempo cambia con nuvolosità e addensamenti maggiori nelle ore centrali ed attenuazione della nuvolosità a partire dalla serata. Avremo piogge anche a carattere di rovescio o di temporale. I fenomeni saranno in esaurimento dalla serata a partire dal settore settentrionale, dunque dalla provincia di Pesaro Urbino, poi scendere giù. Temperature minime in lieve aumento e le temperature massime invece in diminuzione. I venti sono orientali moderati o tesi con raffiche fino a vento forte sulla costa. Il mare da mosso sarà dunque a molto mosso. Venerdì 4 novembre invece il tempo migliora. Al mattino avremo ancora un cielo irregolarmente nuvoloso per nuvole basse che però andranno a dissolversi con schiarite che avremo lungo la fascia costiera e collinare. Le temperature minime saranno stazionari e le massime invece in aumento. I venti di brezza tesa dai quadranti meridionali. Il mare sarà poco mosso. Lo spostamento dell'alta pressione verso Levante garantirà però e quindi ancora condizioni stabili fino all'inizio della prossima settimana, favorendo l'instaurarsi di un flusso occidentale con conseguente transito di nuvoli stratiformi. Diciamo che c'è l'alta pressione di queste nuvole, però insomma non dovrebbero esserci precipitazioni importanti. Il terremoto, ancora la questione del terremoto su tutti i giornali. Continuano le verifiche, continuano le verifiche un po' in tutto il territorio della provincia di Pesorubino mentre la terra continua a tremare anche stanotte qualche scossa che i più sensibili, quelli un po' più svegli probabilmente avranno percepito leggermente dalle nostre parti ovviamente ma lo hanno percepito. Allora andiamo subito a vedere i giornali. Cominciamo dal resto del Carlino, questa è la pagina principale dell'edizione pesarese. La sindrome della crepa. I vigili del fuoco fanno più di 100 controlli al giorno. Ancora paura per la scossa matutina di 4.8. I volontari della Croce Rossa in aiuto ai terremotati. Poi si parla delle notti brave di sballowin. Parafrasando chiaramente il nome di Halloween, la festa del 31 di ottobre, ragazzi dispersi e in preda all'alcol. Fuori dai locali molti giovani ubriachi e una ragazzina di 13 anni è stata trovata, è tornata a casa grazie all'aiuto dei carabinieri. E questa è la prima pagina appunto del giornale. Torniamoci un attimo. C'è anche la notizia che probabilmente non troveremo sulle pagine perché ne abbiamo soltanto sei da scaricare. Sul resto del Carlino un fanese a Urbino, un fanese di 72 anni, morto fulminato da un infarto nel centro della cittadina. Andiamo sulla pagina di Fano, invece torre civica sorvegliata speciale, piovono calcinacci in via Paoli, chiuso anche via del teatro, raddoppiati i turni dei pompieri. Oggi riapre il municipio che nei giorni scorsi è stato chiuso dopo essere ispezionato. Anche il serbatoio dell'acqua dell'Aselt a Monte Ciappellano, dove ci sono delle crepe, è sotto osservazione. È stato controllato bene dai tecnici. Ok? Sotto, grotta a fuoco rischia di intossicare tre famiglie. Fiamme divampate è causa di alcune candele messe sul frigorifero. La pagina del terremoto, le due pagine del terremoto del resto del Carlino, eccole qua. 100 eventi al giorno, dei vigili del fuoco, così affrontano la sindrome della crepa. Abbiamo visto la fotografia, il richiamo in prima pagina. Per ora solo di stacchi d'intonaco e fessurazioni esterne. Ma è un via vai continuo, i sopralluoghi di ieri anche a Villa San Martino e nei palazzi di Via Marsiglia. Stiamo parlando chiaramente di Pesaro. Prima le scuole delle piste ciclabili, subito la valutazione degli edifici. Il consigliere dall'asta dice vanno cambiate le priorità ed il bilancio. L'opposizione insiste sul piano per avere l'antisismicità degli istituti scolastici. Questo è molto importante. Ci vuole una verifica puntuale delle condizioni. Molti risalgono agli anni 70, agli anni 80. Poi si decide appunto dove intervenire. A Pergola il comune è il comune con i maggiori problemi. Paura anche per l'ulteriore scossa mattutina. Evacuazioni e scuole chiuse per il ponte fino a domani. Nell'area di emergenza invece a Pergola c'è il Luna Park. L'opposizione è contro il sindaco. Devono sgomberare. Quindi secondo l'opposizione è appunto Luna Park. Non dovrebbe restare lì, visto che quello che c'è. Ecco il paperon dei paperoni. Andiamo sempre, sempre, siamo sempre sul resto del Carlino. Si tratta di Francesco Toriani, che è il consigliere comunale del Partito Democratico e Presidente del Consorzio Marche Biologico, che guadagna più di tutti. La situazione patrimoniale varia da un minimo di zero ad un massimo di 68.233 euro. È del PD, il più ricco dei consiglieri comunali. Appunto si tratta di Francesco Toriani, che ha dichiarato 68.233 euro. Segue il collega del partito, Sergio Del Rico, architetto, che dichiara 64.951 euro. Se siete curiosi, sul giornale di questa mattina trovate tutta la lista con le cifre. In giunta invece la più ricca è l'assessore Carla Cecchetelli. Il sindaco invece è solo quarto in questa classifica dei nostri paperoni locali. L'assessore al bilancio e alle finanze Carla Cecchetelli, sempre del PD, ha dichiarato 95.615 euro. La cronaca da Calcinelli di Saltara. Una giovane mamma è stata trovata morta in garage. La ragazza moldava, lavorava come badante per una famiglia di anziani a Calcinelli. La notizia già si era diffusa ieri mattina. Tanti parlavano di questa ragazza trovata morta. Si è impiccata utilizzando un cavo elettrico fissato ad un tubo che corre sul soffitto del garage. Inutile l'allarme del 118. Quindi questa è purtroppo la notizia che arriva da Calcinelli. Poi le altre notizie. Andiamo sul Corriere Adriatico. Torniamo sull'argomento del terremoto. Vedete il mostro si allunga. Nuova scossa di magnitudo 4.8. Darquata a Fiastra cambia l'epicentro del terremoto. Il sismologo, uno dei massimi esperti, Boschi, dice segue la dorsale appenninica. E questa è la prima pagina del Corriere edizione di Pesaro, ma che vale per tutta la regione. Il mostro delle rocce che scala i Sibillini. Ma noi restiamo qui. Scossa con il picentro spostato a nord tra Fiastra ed Acquacanina. A Bolognola in 37 dormono nelle tende. Fra un po' inizierà a nevicare. Portate i container. Questa è la richiesta che arriva sempre più forte. Accorato appello di chi conosce bene il territorio, ma conosce bene anche il clima. E quindi sa che ormai non c'è più tempo da perdere. Perché sta arrivando il freddo, quello intenso, che porterà anche le prime nevicate su quelle terre, su quei territori. Più faglie. Parlavamo anche nei giorni scorsi delle faglie in azione, ma senza seguire un tracciato preciso. È l'analisi del sismologo e geofisico Enzo Boschi. Lo vedete, lo riconoscerete sicuramente, capelli bianchi. Per tanto tempo, in occasione di queste calamità naturali, è stato intervistato a tutti i media ogni volta che c'è stato un terremoto. Lo sciame continuerà, ma è meno probabile che si ripetano fenomeni di forte intensità. Sono frasi più o meno che risentiamo continuamente. Ormai ci crediamo, ma sempre col beneficio del dubbio, perché tutte le volte che ci dicono così poi vengono smentiti. Non si possono prevedere terremoti. Ormai rassegniamoci, è così che funziona. Per cui si possono solo studiare da una parte e dall'altra. Per fare prevenzione costruendo case certamente antisismiche, dove è possibile costruirle. Scuole al lavoro fino alla campanella, la corsa dei tecnici all'ultima verifica. Siamo sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico. Oggi riaprono gli istituti superiori a saltare gli alunni trasferiti nella delegazione comunale di Calcinelli. Questo per precauzione. A Pesaro sono state individuate 30 zone sicure dove far confluire la gente in caso di emergenza. E qui stiamo parlando appunto di piano di emergenza. Quello che nessuno di noi conosce, ma che esiste in ogni comune, andrebbe diffuso, andrebbe divulgato. In diretta il sindaco qua l'altra sera ha chiesto, e noi abbiamo immediatamente accettato, di divulgare questo piano di emergenza. Quindi fare una sorta di trasmissione per diffondere, divulgare queste cose. Anche perché col terremoto non ci dobbiamo convivere. A Fano transennata invece la strada degli studenti, in via Paoli, è stato vietato l'accesso anche ai pedoni. In serata controlli anche alla Torre Civica, quella del Palazzo del Podestà, in Piazza 20 Settembre. Questa hanno controllato, penso l'orologio, qualcosa di simile. Sì, l'orologio hanno controllato bene l'orologio di Piazza 20 Settembre. Poi è stata chiusa la chiesa di Santa Croce a Calcinelli per la presenza di alcune crepe avistose all'interno dell'edificio di culto. Anche la chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cartoceto è temporaneamente chiusa per poter effettuare ulteriori approfondimenti a riguardo. Lo ha comunicato il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. E poi Valfoglia, Operazione Sicurezza, ha attivato il centro operativo intercomunale di Pian del Bruscolo. Dunque tutti i comuni si stanno attivando, chi con i centri più che meno, insomma, si sta attivando per cercare di non trovarsi impreparati. Stabilità sismica, siamo a Saltara, è difficile a controllare. Alighiero Miccioli, amministratore di Megasnet, ad agosto aveva inviato la richiesta a 53 sindaci soci di Megas e provincia. coordinamento e priorità alle scuole, ecco la strategia studiata per ottenere i finanziamenti FERS 2014-2020. La società a totale partecipazione pubblica ha un utile netto di 100.000 euro. Tutti ci chiedono di non essere abbandonati, i camaldolesi, siamo a Serra Sant'Abbondio, i camaldolesi più forti delle crepe che hanno segnato Fonte Avellana. Il terremoto di Domenica non ha risparmiato l'eremo di Santa Croce di Fonte Avellana. La violenta scossa ha lasciato nell'alta volta dell'ingresso del monastero una sottile e lunga crepa, danneggiando il primo piano della foresteria. Fascicolo del fabbricato. Ora muoviamoci, siamo sempre sulla pagina di Pesero dedicata al terremoto. Per i geologi è lo strumento fondamentale. Andrea Pignocchi, presidente dell'Ordine dei Geologi, dice che le costruzioni prima del 1974 non danno garanzie antisismiche. L'ingegner Zazzaroni, ecco quali caserme, hanno una sicurezza inferiore. Sotto, gli albergatori di Pesero, Fano e Gabicci hanno subito dato la disponibilità ad ospitare gli sfollati del terremoto. Nessuna richiesta però, ma già centinaia di posti sono disponibili, sono pronti. La pagina di Fano invece del Corriere, Fondazione Taglia la Sanità, ecco come sarà ripartito il tesoretto. A disposizione 800 mila euro, conferme solo per la Caritas accordo con l'Ateneo di Urbino. Previsti 200 mila euro per il settore famiglia e assistenza anziani. Lo ha detto Fabio Tombari, che è il presidente della Fondazione Cassa degli Spalmi di Fano. Sulla sanità, chiaruccia e modello policentrico sbagliati. Sbagliati, ospedale Castellini di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale critica il documento presentato da noi giovani. I cimiteri, oggi dicevamo è la giornata in cui i cimiteri, così come nei giorni scorsi, saranno pieni di gente. Gente che va a portare un fiore sulle tombe dei propri cari, che non ci sono più. I cimiteri trascurati da anni serviranno lavori straordinari. L'assessore Fanesi risponde alle accuse della minoranza Rosciano pronto in due mesi. A Ferretto invece padiglioni chiusi per ragioni di sicurezza e decoro alle sepolture. E poi streghe, mostri, fantasmi hanno invaso la città. Tantissimi bambini hanno girato per le vie in maschera. Molti petardi, nessun danno. In realtà i danni ci sono stati, ve li mostreremo questa sera nel telegiornale. Non è una città per giovani, invece l'altra pagina di Fano del Corriere. Nascite e popolazione in calo. I numeri dell'Istat descrivono una comunità che soffre di vecchiaia anche sul lavoro. E poi il grande fratello della discordia è stato appena installato e già suscita perplessità. Il popolo di Facebook protesta per la colonna di Viale Primo Maggio, dove saranno collocate le telecamere di video e sorgeriglianza. Alcuni, secondo alcuni, il palo sarebbe troppo ridosso della carreggiata e creerebbe dei rischi per pedoni e ciclisti. Badante, badante trovata morta nella rimessa di chi accudiva. La donna viveva con la madre a casa della coppia che entrambe aiutavano. Il dramma è maturato in piena notte a Calcinelli. Una badante di nazionalità rumena, trentenne, separata in madre di un bambino di otto anni, si è tolta la vita impiccandosi a luna di notte nella rimessa dell'abitazione a Calcinelli. La pagina della Valle del Cesano, velocemente sui titoli, l'area del Luna Park è sfrattato dal piazzale, l'area serve per l'emergenza, pergo la minoranza all'attacco, l'assessore Castrori, autorizzazioni mai date. L'altra pagina, eccola qua, addio alla messa di San Sebastiano, siamo a Mondolfo, non ci sono vocazioni, mettiamocelo in testo ormai è così, vocazioni in crisi, non ci sono i frati, a Mondolfo mobilitazione per salvare le funzioni di Natale, il coro continua a Ponte Rio. C'erano anche difficoltà logistiche per far arrivare ogni domenica religiosi, da altre parti per garantire le messe. Ucciso da un'auto pirata, l'ultima pagina è quella di Senigallia, la cronaca, prima del party, un ragazzo di 18 anni falciato in Via Mattei, sabato sera andava a piedi ad una festa di Halloween, lo studente universitario che era al volante non l'ha visto, polemiche per la strada buia e pericolose, il pedone non si è accorto dell'arrivo della macchina è volato nel campo, lo vedete purtroppo in questa terribile immagine di questo lenzuolo bianco illuminato dai fari di un'ambulanza in mezzo al verde e al buio della notte, squarciata appunto soltanto dai fari di questa ambulanza del 118, la foto di questo ragazzino che non c'è più. Ci fermiamo, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, a voi tutti l'augurio di una buona giornata, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.